Per me Love Together significa unirci per ribadire la forza dell'amore. Per questo motivo quest'anno Torino e Milano si sono amate e hanno deciso insieme di fare resistenza culturale e di movimento. Quest'anno Mix ha inaugurato, Lovers verrà dopo, dal 22 al 25 ottobre. E diciamo che questo è solo il primo assaggio di quella che sarà una collaborazione che nei prossimi anni mi auguro sia ancora più forte perché continuo a credere che solo stando uniti possiamo vincere contro coloro che sono piccoli mentalmente, gretti, pigri e ignoranti. More love, Love Together. Grazie a tutti.